magnifico ti do il benvenuto veramente nella prima lezione di pianoforte della tua vita magari non è della tua vita hai già avuto qualche insegnante poi per vari motivi è lasciato per poco tempo perché non ti trovi bene perché l'insegnante abitava lontano insomma ognuno ha le sue mille ragioni e sono assolutamente tutte più che valide ora io voglio portarti nel mio mondo farti vedere il mio metodo cercare di insegnarti questa materia nel modo più semplice facile divertente non deve essere assolutamente noioso la musica è bella quindi godiamola assieme la prima cosa che ti chiedo di fare prima di mettere veramente le mani sul pianoforte è quello di controllare la lunghezza delle tue unghie questo è molto importante perché devi sapere che il pianoforte va suonato con i polpastrelli e suonandolo con i polpastrelli chiaro che se tu hai l'unghia particolarmente lunga arrivere a toccare prima sul tasto con le unghie questo è un problema soprattutto delle ragazze ho avuto studentesse soprattutto adolescenti con le unghie pitturate lunghissime che non riuscivano a suonare il pianoforte perché il pianoforte come sai quando vedi pianisti in tv o su youtube hanno le mani abbastanza a ragno no non so come dire con le unghie lunghe non puoi farlo ma vale anche per i maschietti che magari a volte giustamente chi non deve fare un lavoro manuale di questo tipo non si interessa troppo delle unghie quindi deve essere molto corte questo è importante quindi se hai insomma la tendenza a utilizzare extension robe varie non ci vogliono devi avere unghia corte per avere il massimo feeling e contatto con il tasto quindi questa è in assoluto la prima operazione da fare dopodiché possiamo andare al pianoforte quindi adesso ti farò vedere le mie mani sul piano potrai fare lo stesso esercizio in contemporanea con me ti farò vedere tutti i tasti la posizione migliore della mano questi saranno insomma gli argomenti di questa prima lezione e già inizieremo a fare il primo esercizio di pianoforte in assoluto un esercizio che è stato ideato da Chopin che è stato uno dei più grandi pianisti ma anche didatti di sempre c'è un libro bellissimo che ti consiglio di leggere se avrai voglia che si intitola Chopin visto dai suoi allievi ti te lo linkerò qui sotto che lo potrai ordinare da amazon e in questo libro si vede come gli suoi studenti oltre essere onorati di andare a studiare da Chopin avevano anche si hanno anche resi conto che era veramente bravo a trasmettere le informazioni perché non tutti che quelli che sono bravi a suonare sono anche allo stesso tempo bravi a trasmettere le informazioni quindi spero di darti il meglio quindi partiamo ed eccoci qui dinanzi al nostro fantastico strumento non ti preoccupare che quando avremo bisogno di vedere tutta la tastiera io cambierò l'inquadratura metterò un'inquadratura dall'alto però adesso non c'è bisogno di inquadrarla tutta allora abbiamo detto pianoforte fatto da 88 tasti una serie di tasti bianchi e di tasti neri come saprai magari da quello che ti ricordi a quello che hai studiato alle scuole medie insomma comunque più o meno lo sanno tutti le sette note musicali sono dore mi fa sola si do e impariamo a riconoscere il do perché una volta che sappiamo riconoscere il do sappiamo riconoscere anche tutte le altre allora l'unico modo che noi abbiamo per trovare il do in questa sfilza di tasti bianchi sta nel individuare in realtà i tasti neri se ci fai caso i tasti neri sono divisi a coppie di 2 3 tasti 2 3 tasti quindi sono gruppi di 2 3 2 3 2 3 il do è il tasto bianco prima dei due tasti neri quindi trova un gruppo di due tasti neri che può essere questo che può essere questo il tasto nero appena prima è il do trova due tasti neri così sono tre non va bene due tasti neri il tasto prima è un do trova due tasti neri il tasto prima è un do ora su un pianoforte di queste dimensioni con 88 tasti i tasti neri scusami i tasti sono 88 e di do ce ne sono 8 quindi il primo esercizio che ti chiedo di fare è quello col dito di andare a prendere tutti i do della tastiera anche quelli più alti che adesso in questa inquadratura noi non riusciamo a vedere chiaramente una volta che abbiamo individuato il do possiamo facilmente anche individuare il re poiché si tratta del tasto successivo al do così anche il mi così anche il fa così anche il so la si e do ti dico con la mia esperienza insomma di 15 anni di insegnamento qual è l'errore più comune l'errore più comune soprattutto per chi comincia è quello di confondere il do con il fa si trovano entrambi prima di un gruppo di tasti neri ma attenzione che il fa arriva prima di tre tasti neri quindi di do è solo quello prima dei dei due tasti neri ti potranno venire in mente ora tante domande allora questi tasti neri come si chiamano ma io direi di vederlo un pochettino più avanti un passo alla volta così come quando un nuotatore non gli si insegna subito a nuotare ma gli si insegna come prima cosa a stare a galla quindi la prima cosa è non andare a fondo poi ti insegno se vuoi lo stile a rana e tutto il resto però adesso impariamo i nomi dei tasti quindi primo esercizio che facciamo è un esercizio di riconoscimento io ti indico un po' di tasti e tu mi devi dire come si chiamano allora ti indico questo tasto qui allora il tuo ragionamento è ok individuo il do questo il do perché è il primo dei due tasti neri do re mi mi è la risposta a questo esercizio facciamone un altro insieme ti dico ti chiedo che tasto è questo qui trac 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 ok ecco questo è il do però cacchierola non so ancora andare indietro allora partiamo dal do primo questo è il do do re mi fa sol la eccolo questo è un la allora facciamo così e i due tasti neri questo è un do do re mi fa quindi puoi esercitarti anche tu a mettere proprio a caso un dito in qualsiasi zona della tastiera e cercare di dare una risposta su che nota è quella hai visto abbiamo trovato subito un ostacolo cioè noi sappiamo contare la scala a salire do re mi fa sol la si do ma non la sappiamo fare a scendere quindi un altro esercizio prendi appunti mentre segui queste lezioni perché così saprai gli esercizi che dovrai fare a parte che io poi ti riassumo tutto però è sempre bene partecipare attivamente non guardarli solo passivamente queste lezioni un altro lavoro che dovrei fare questo ti potrà richiedere un paio di giorni do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi re do il trucco per imparare a memoria è facilmente la scala al contrario chiamasi scala discendente è quello di dividere la scala in due parti do si la la e sol fa mi re do do si la sol fa mi re do do si la sol fa mi re do questa è una roba unica sol fa mi re do do si la sol fa mi re do do re mi fa so la si do do si la sol fa mi re do eh sol fa mi re do è facile da ricordare do si la do si la sol fa mi re do ripetilo ripetelo nel giro di uno o due giorni l'avrei imparato benissimo ok? quindi con lo stesso meccanismo, se io ti chiedo questa che nota è? tu non devi per forza partire da questo do, puoi partire da questo se questo è un do, do si la sol famire sol, questo è un sol ok? quindi questo era il primo esercizio importantissimo andiamo a vedere ora la seconda nozione di oggi che è quello dell'impostazione della mano, come devono suonare su questo bellissimo pianoforte i pianisti, partiamo con una mano alla volta, tanto fretta non ne abbiamo, abbiamo sei mesi di tempo la prima cosa è quella di provare a posizionare la mano appunto a partire dal do, quindi che cosa si fa? si mette il pollice sul do e solitamente ogni dito ha il suo tasto, quindi questo dito c'ha questo, questo dito c'ha questo, questo dito c'ha questo dovresti arrivare praticamente dal do al sol col mignolino questa è la tua posizione ricordati sempre, questa si chiama la posizione delle cinque note e prende il nome dalla nota più bassa, questa si chiama posizione di do, musicalmente si chiama posizione di do se metto il pollice sul mi e tutte le altre dita sui tasti adiacenti questa si chiama posizione di mi perché il pollice sta schiacciando un mi questa si chiama posizione di re eccetera eccetera quindi d'ora in poi quando io ti dirò posizione di si, posizione di sol tu saprai dove mettere essenzialmente il pollice di conseguenza tutte le altre dita saprai anche quelle dove mettere perché andranno sui tasti adiacenti ora come deve essere impostata questa mano ora tu vedrai già la mia mano impostata perché sono niente vent'anni che sono al piano no è di più sì sono ventitré anni che sono al piano e quindi la mano è abbastanza formata però iniziamo a a vedere come si forma una mano solitamente gli errori sono una mano così una mano così dove il pollice è in fuori una mano dove ogni dito è per i fatti suoi no la mano deve essere composta la mano deve essere assolutamente composta è come se qualcuno dice immaginati una palla da tennis la mano si aggrappa alla palla da tennis immaginati un pomodoro qui sotto la mano si aggrappa e cosa molto importante si devono vedere le nocche che in gergo tecnico viene chiamato metacarpo il metacarpo deve essere ben visibile immaginati quando fai il pugno quando fai il pugno si vede bene stessa cosa quando suoni se aprendo le mani questo metacarpo scompare non va bene questa è la posizione giusta questa non va bene questa è la posizione giusta questa non va bene perché questo metacarpo in vista fa da ponte e ti permette di affondare bene le dita all'interno del pianoforte questa è la posizione devi avere una sorta di brutto chiamarla di rigidità perché se ti hai la mano così sconnessa ti diventa così invece devi creare proprio così deve essere la mano vedi che ho il palmo un po' chiuso non è così o così il palmo è un po' chiuso e tutto un po' viene comandato da questi palmi che sono un po' chiusi eh la mano è questa ti ricordi quegli omini della lego con le mani gialle che ho le mani così così sei un omino della lego non sei un pianista sei un omino della lego questa è la posizione allora quello che puoi iniziare a fare per esercitarti è quello di andare da posizione a posizione con questa con questa posizione scusami il gioco di parole quindi posizione di do butto giù tutte e cinque le dita nocchie ben visibili le dita non distese perché io devo suonare con il polpastrello quindi si deve creare questa tra il pollice e l'indice si deve creare una C la vedi la C questa non è una C questa neanche questa è una C questa è una bellissima C quindi la C è importantissima e l'enocchie ossia il metacarpo deve essere sullo stesso livello di dove iniziano i tasti guarda se noi tiriamo una linea questo è il mio metacarpo e questi sono i tasti spero che si riesca a vedere bene questa è la posizione della mano niente di più niente di meno chiaramente finché suoniamo sui tasti bianchi è bene non entrare poiché c'è il discorso della leva è chiaro che io faccio più fatica a premere il tasto qui che a premerlo qui per il discorso semplicemente della leva quindi è bene che io stia fuori ma mi raccomando è vero che sto fuori dai tasti dai tasti neri ma non devo avere dita fuori dalla tastiera questo è un errore questo è un errore tutto dentro perché si deve vedere questa posizione ci vorrà un po' di tempo non è la posizione più naturale del mondo ma ci vuole un po' di tempo se ci fai caso se tu ti ora provi ad alzarti a camminare in giro per la tua stanza troverai e metti giù le mani lungo lungo di te troverai che le tuoi mani saranno tipo così questa sarà la posizione delle tuoi mani non c'errai così 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 sarà questa sarà la tua mano e guarda un po' le nocchie come si vedono questa sarà la posizione della tua mano ok benissimo a questo punto abbiamo la nostra posizione di do abbiamo le nostre cinque dita l'esercizio da fare semplicemente quello di andare dal do al sol e dal sol al do in questo modo mi raccomando niente fretta la fretta è assassina sul pianoforte io ho imparato a essere più diligente più paziente grazie al pianoforte allora guarda qui di che cosa si tratta iniziamo col pollice e prima di abbassare un tasto lo prepariamo guarda cosa vuol dire pollice che si alza pollice che va giù ho suonato il do bene ora questo tasto durerà per 20 secondi dipende anche dal modello del pianoforte che avete non devo aspettare per forza che si esaurisca il suono prima di fare l'altro ma può essere un buon minutaggio per capire quando partire con l'altro dito in questa prima fase iniziale chiaramente ora tocca l'indice tocca l'indice quindi prima di suonare lo prepariamo questo esercizio di preparazione io non ho mai visto pianisti che prima di suonare fanno così serve a noi per iniziare a prendere coscienza sul dito che stanno per abbassare cioè la mia coscienza gli dice che ora voglio suonare questo non questo non questo non questo questo e vada bene che debba alzarsi solo lui alzo l'indice e quando vado per affondare l'indice solo in quel momento il pollice va via tutte le altre dita sono appoggiate sui tasti non svolazzo non devi sentire il contatto sui tasti anche questo pollice è a contatto col tasto importantissimo adesso tocca al medio quindi eccolo qui il medio ce l'ho ce l'ho sotto controllo alzo il medio lo abbasso e quando lo abbasso l'indice è andato via ok adesso il turno dell'anurale del mignolo che forse da questa inquadratura non riesci a vederli bene motivo per cui te li faccio vedere da qui quindi eravamo arrivati sul sul medio adesso tocca all'anulare ora qui è l'unica che ti permetto che quando alzi l'anulare alzi alza anche il mignolo è normalissimo capita tutto anche i pienissimi esperti però se uno vuole allenarsi un pochettino ci riesce poi ti racconterò un aneddoto su questo quarto dito ok quindi prepari via l'anulare 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 ha suonato tutte le altre dita rimangono nella posizione ognuno ha il suo tasto non fare che il mignolo perde la sua posizione se il mignolo è sul fa deve rimanere sul fa a questo punto tocca il mignolo sollevo il mignolo lo abbasso tutte le dita sono a contatto stretto con i tasti eccolo qui perfetto mi sento perfettamente a mio agio ok a questo punto non devo fare altro che ritornare quindi dal mignolo tocca ancora l'anulare preparo l'anulare via benissimo ho tutte le dita devo sentire l'esercizio non è questa roba qui non mi interessa questa roba qui mi interessa che tu hai premuto il tasto senti che le altre dita toccano il tasto senza suonare quando ti senti pronto sollevi il medio e tocca a lui bam quindi succederanno un po' di errori mentre tu suonerai questo primo esercizio un errore tipico è quello che il mignolino ti fa un po' d'antenna parabolica ti prende a tutte le frequenze altro errore è appunto che la mano perda le 5 note quindi il pollice si allarga il mignolo si allarga queste sono cose che possono succedere mettile in conto può succedere che a volte vorrei suonare questo dito se abbasserà quest'altro può succedere anche questo non ti preoccupare se ciò succede l'importante è che inizi a prendere confidenza con le tue dita quindi è una questione di indipendenza delle dita abbiamo la mano ma abbiamo anche le dita indipendenti quindi un altro esercizio che puoi fare anche su questo prendi appunti così poi lo fai alla fine della lezione e dire ok voglio attivare l'indice voglio trovare l'anulare voglio attivare il medio adesso voglio fare mignolo medio pollice mignolo medio pollice eh mignolo medio pollice ecco di qui sto attivando questi qui sto muovendo solo loro allora adesso solo annulare e indice annulare indice ecco di qui solo loro guarda che non sto muovendo anche tutto il resto della mano solo loro sto muovendo solo loro ok quindi prendere confidenza questo è il primo passo per imparare veramente a suonare il pianoforte quindi per ora abbiamo visto dove si trova il Do chiaramente vedendo il Do abbiamo visto dove si trovano come possiamo trovare tutte le altre quindi ti invito a provare a premere un tasto a caso e a cercare di capire quel tasto che tasto è abbiamo visto la posizione della mano dove il palmo internamente deve essere fatto in questo modo con non c'è questa roba qui le dita non sono da sole bam sono compatte poi quando voglio attivare quel dito si attiva quel dito ma prima io devo creare questo ponte di sostegno perché altrimenti vedo cose di questo tipo questo ponte ci permetterà invece di essere velocissimi ok solo questo ponte ci permette di essere rapidi nel movimento quindi cerchiamo di costruirlo il prima possibile se non ti viene naturale ci vuol dire che bisogna metterci un po' se vedi proprio che con tanto allenamento ciò non dovesse succedere ma le nocchie non si vedono perché si affondano qualcuno pensa mi è capitato di dire qualcuno dice ma io sono abbastanza paffutello e quindi ho la ciccia e non si vedono le nocchie no non c'entra niente perché se lo fai bene anche se tu pesi 200 kg si vede bene lo stesso e quindi ecco se proprio vedi che non dovesse vedersi non ti preoccupare non ti fossilizzare non significa che non potrai mai suonare il piano vai avanti comunque però cerca se nel limite del possibile di ricercare questa posizione la mano solida immaginati di avere una palla da tenne sotto sulla quale appoggiare la mano con questa parte che non il pugno devi paginarti sempre il pugno quando ti vedi che il pugno non c'è che le nocchie non si vedono non va bene questa è la posizione giusta sbagliata giusta che cosa che fa è il tirare su questa parte qui e questa parte qui devi stare su non giù ma su quindi con l'altro dito prendi il medio e ti tiri su ecco giusto suono tolgo cedo vum su ancora questa è la posizione giusta sto cedendo vum ok questa è la posizione corretta per suonare il piano bene adesso quindi facciamo il primo esercizio del nostro mitico Chopin in realtà l'abbiamo già un po' fatto l'esercizio di Chopin è un po' modificato noi siamo partiti dal Do siamo andati dal Do al Sol per ora solo con la mano destra ti ho fatto vedere qualcosina con la sinistra ma lo stesso discorso puoi fare con la sinistra parti dal Do e ti fai pian pianino tutte le note nocchi guarda guarda il dito che suona come si vede la nocca tocca al medio ha 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 funziona indice ha 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 si vede ok l'esercizio di Chopin è praticamente identico ma con note diverse si parte dal Mi Mi vedi che qui ci sono tre tasti neri metto le tre dita lunghe le tre dita lunghe sono queste qui che abbiamo no sui tre tasti neri e il mignolino sul Do e praticamente ottengo questa roba qui Mi tasto nero tasto nero tasto nero e Do il suono è bruttissimo senti che brutto sembra quei film dove si parla di sogno quando uno ha avuto un incubo no? nel film succede sempre la mettono questa melodia però non ti preoccupare allora facciamo andata e ritorno in questo modo perché questa posizione è meglio di quella che ti ho fatto vedere io prima perché questa è più ergonomica perché proprio come ti ho detto le tre dita lunghe vanno sui tre tasti neri questa è la cosa veramente meravigliosa di questa posizione che la mano tende ad essere già impostata nel modo giusto mentre quando io vedo sui tasti bianchi la mano ha bisogno di chiudersi invece in questa posizione la mano è più tendente al normale eccola qui la cupola per questa posizione quindi ora io l'ho fatto veloce tu fallo sempre lentamente pollice ho la mano tutta composta e compatta perfetto indice tocca al medio ho tutto composto tutto compatto perfetto tocca all'anulare eccolo perfetto tocca al mignolino ok ho la mano tutta sempre compatta e anche qui torno indietro chiaramente lo stesso esercizio va fatto anche sulla mano sinistra quindi lavora una mano per volta in gergo tecnico si dice lavora a mani separate ma soprattutto fai anche questo secondo esercizio questo è un pochettino più difficile si tratta di fare ancora la nostra andata e ritorno ma questa volta quando facciamo l'andata teniamo il pollice premuto questo serve a sviluppare ancora di più un'interdipendenza guarda ti faccio vedere l'esercizio e poi te lo faccio vedere lentamente il pollice è rimasto sempre premuto per tutta la durata dell'esercizio pollice quando faccio l'indice lo preparo il pollice ancora giù solo quando farò il medio alzo l'indice ma il pollice rimane ancora giù ci vorrà un po' di tempo per acquisire questa abilità ok e torniamo indietro ti faccio vedere qual è l'errore più comune che vedo fare dagli studenti è questo ecco fin qui io credo che siamo bravi tutti ma questo non è il modo corretto di suonare il piano il piano si suona che tu suoni un tasto e quel tasto non lo abbandoni finché non hai suonato quello successivo ora puoi andare via questo dove tu abbandoni subito il tasto che suoni è un altro modo di suonare il piano che prende il nome di staccato ed è un effetto speciale che puoi utilizzare in alcune parti ma non puoi suonare il piano così normalmente ci sono un sacco di brani questo è tutto staccato così legato quindi ci sono poi dei casi in cui va suonato staccato ma non è il caso quindi suona l'indice e rimane giù faccio il medio via chiaramente quanto sarai sadico lo deciderai tu puoi fare lo stesso discorso col mignolo tengo il mignolo giù questa è la mano sinistra quindi dal mi fino al do con i tre tastini chiaramente la mano sinistra è a specchio dobbiamo sempre ricordarci quindi mi mignolino adesso devo fare l'anulare rimane giù insieme al mignolino solo quando vado per il medio ho tolto l'anulare adesso devo fare l'indice preparo l'indice perfetto questo rimane sempre giù tocca il pollice ok sempre un dito per volta tranne il primo che deve rimanere sempre giù cosa che potrà aiutarti se tu dici Christian è già troppo difficile questo primo esercizio è vero questo è molto complesso dato che un dito deve stare giù se si tratta di un dito esterno quindi ho il mignolo al pollice in genere queste dita esterne sono più facilitate proprio perché possiamo sfruttare anche un movimento di rotazione del polso quindi altro esercizio che ti chiedo di fare è prendere confidenza con questo movimento a volte non ci rendiamo conto che esiste anche questo fai così mano aperta ruota ah che bello che bella la rotazione ecco qui possiamo ruotare un pochettino la mano verso il mignolo per aiutare in pratica come se il pollice diciamo guardasse verso l'alto per aiutare il mignolino a stare questa leggera inclinazione della mano in direzione del mignolo aiuta a tenerlo giù mentre la mano perfettamente composta farai più fatica questi movimenti li vedremo con calma più avanti prendono il nome di movimenti di aggiustamento cioè il piano si suona con le dita ma ti garantisco che le dita sono l'ultima cosa di cui tu dovrai aver bisogno si suonerà molto col polso molto con la rotazione del polso molto con movimenti avanti e indietro di avambraccio molto con movimenti di gomito quindi andremo a vedere pian piano insieme tutti questi argomenti benissimo questa prima lezione di pianoforte allora è terminata che cosa ci portiamo a casa ci portiamo a casa che abbiamo imparato a riconoscere le note abbiamo imparato a vedere la posizione della mano abbiamo imparato che ci sono altri movimenti abbiamo capito che c'è la posizione di do posizione di mi posizione di fa abbiamo capito in che modo bisogna suonare il piano non staccato ma legando nota dopo nota e ci sono c'era una serie di compiti che spero che tu ti sia segnato perché questi poi vanno fatti lo ripeto io ci metto del mio meglio ma devi farlo anche tu perché io da solo dall'altra lata del video ma anche se fossi accanto a te non riuscirei a farti migliorare se tu poi quando sei da solo per i fatti tuoi non ti metti a praticare sul pianoforte questo primo esercizio non è stato divertente di divertente probabilmente non c'era veramente nulla ma ti chiedo di avere pazienza perché siamo all'inizio fra un mese inizierai veramente a fare cose molto molto carine però devi avere un attimo di pazienza la parte iniziale di un percorso pianistico è la parte più difficile perché lo studente si allena ma non vede troppi risultati melodie bruttine cose non troppo sensate però se tu mi dai fiducia io ti porterò ad un buon livello dove potrai suonare con due mani robe divertenti belle e fare bella figura da chi ti ascolterà arriveranno amici parenti a casa tu potrai suonare davanti a loro e veramente divertirti poi ci sarà anche il discorso di gestire l'ansia ma quello è un altro discorso bene spero che tu comunque ti sia divertito che sia stato tutto chiaro e limpido allora se tutto chiaro qui sotto troverai sempre delle risorse alle quali accedere noi ci vediamo nella prossima lezione grazie a tutti